sono all'aperto per fare sotto sole che fa per fare un video un giardino che si sta bene anche oggi sto facendo un video per milion day che mancava ok avevo detto per per super noto si continua ancora con gli stessi numeri ok perché non è facile non è tanto facile io non c'è troppo ricci qua vediamo se riesco a fare qualcosa ragazzi proviamo proviamo c'è tanto luci bisogna andare dentro proviamo dai ok allora buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio buon inizio a settimana per i milion day ragazzi andiamo a giocare questi qui nuove previsioni da giocare per cinque colpi come sempre se escono più numeri vanno cambiati e per il lotto e dice all'otto sono già disponibili sul canale youtube e speriamo bene come state tutto bene speriamo di sì io saluto a tutti e grazie a tutti per i vostri commenti io leggo sempre i vostri commenti e quando posso rispondo e niente lo sapete queste le previsioni che ho dato sempre sempre stati dati gratuitamente ok sempre gratuitamente e e andiamo avanti mi raccomando questo sempre un gioco un divertimento e un'altra cosa giocate sempre poco ok le previsioni sono questi ragazzi eccoli qua allora sono due i 10 18 35 54 e poi abbiamo il 23 34 il 30 il 54 avete visto che c'è il 24 ripetuti due volte per quelli che giocano per quelli che giocano il sistema ridotto tipo questa qua più o meno comunque sono stessi i numeri eccoli qua sono stessi i numeri ok questo si chiama sistema ridotto ok io l'ho già giocati con preparati stamattina e speriamo anche per voi porta bene ok allora i 10 all'otto scusa milioni dai sono due coloni da 5 chi vuole giocare una colonna seconda colonna quella extra oppure il sistema ridotto funziona così ok puoi giocati solo normale così non andate a spendere tanto sempre un divertimento ragazzi e auguro a tutti buona fortuna e che non ancora scritto si iscriviti al canale youtube e iscriviti sempre il vostro commento guarda che ci tengo e leggo sempre ok e basta per lo dico un'altra volta per super noto lo sapete che è difficile io ho provato a mettere a mettere studiarle a modo mio ma è così funziona ok auguro a tutti buon preseguimenti e buon inizio a settimana ciao ciao da karim ok i numeri sono già presi alla prossima sono all'aperto per fare sotto sole che fa per fare un video un giardino e si sta bene anche oggi sto facendo un video per milioni dai che mancava ok avevo detto per per super noto si continua ancora con gli stessi numeri ok perché non è facile non è tanto facile dio non c'è troppo lecico vediamo se riesco a fare qualcosa ragazzi proviamo proviamo c'è tanto luci bisogna andare dentro proviamo dai ok allora buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio buon inizio a settimana per i milioni dai ragazzi andiamo a giocare questi qui nuove previsioni da giocare per cinque colpi come sempre se escono più numeri vanno cambiati e per il lotto e dice all'otto sono già disponibili sul canale youtube e speriamo bene come state tutto bene speriamo di sì io saluto a tutti e grazie a tutti per i vostri commenti io leggo sempre i vostri commenti e quando posso rispondo e niente lo sapete queste le previsioni che ho dato sempre sempre stati dati gratuitamente ok sempre gratuitamente e e andiamo avanti mi raccomando questo sempre un gioco un divertimento e un'altra cosa giocate sempre poco ok le previsioni sono questi ragazzi eccole qua allora sono due i 10 18 35 54 e poi abbiamo il 23 34 il 30 il 54 avete visto che c'è il 2 il 54 ripetuti due volte per quelli che giocano per quelli che giocano il sistema ridotto tipo questa qua più o meno comunque sono stessi i numeri e quali qua sono stessi i numeri ok questo si chiama il sistema ridotto ok io l'ho già giocate ho preparato stamattina e speriamo anche per voi porta bene ok allora i 10 all'otto scusa milioni dei sono due coloni da 5 chi vuole a giocare una colonna seconda colonna quella extra oppure il sistema ridotto funziona così ok poi giocate solo normale così non andate a spendere tanto sempre un divertimento ragazzi e auguro a tutti buona fortuna e che non hanno ancora scritto si iscrivete sempre vostro commenti guarda che ci tengo e leggo sempre ok e basta per lo dico un'altra volta per super noto lo sapete che è difficile io ho provato a mettere a mettere a studiarle a modo mio ma è così funziona ok auguro a tutti buon preseguimenti e buon inizio a settimana ciao ciao da karim ok i numeri sono già presi alla prossima